bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite vedremo la patch 13.40 vedremo l'arrivo con dei dettagli davvero molto da vicino della nuova location e parleremo anche di alcuni regali ancora da prendere prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un post che sta letteralmente spopolando su reddit ha ricevuto tantissime condivisioni perché sembrerebbe che ci sia un concept preso seriamente in considerazione da epic games che possa portare un nuovo piccone in uscita con i veicoli ci starebbe davvero tantissimo il nome del piccone è traffic basher e come vedete ragazzi ve lo faccio vedere in un'immagine un po più dettagliata è un semaforo ma questo semaforo ha delle particolarità come vedete in alto a destra è personalizzabile a parte appunto il fatto che avrebbe la luce che si sposta ogni volta che tirate le picconate verde rosso e giallo a parte il fatto che starebbe benissimo con l'uscita dei veicoli sembrerebbe che sia anche possibile inserire proprio sotto alle luci la vostra la nostra location preferita sia quelle passate che quelle attuali come vedete greasy groove sweetie sense tilted tower lazy links mamma mia quante c'è ne approfitto per farvi una domandina così veloce me lo scrivete qua sotto nei commenti qual è la vostra città preferita di sempre dai ragazzi scrivetemelo che un po che non vi facevo la domandina quindi tanta tanta roba speriamo che epi games prenda in seria considerazione anche l'arrivo di questo piccone e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che da ieri o meglio oggi alla una del mattino quindi è già passato era disponibile il concerto di diplo in tempo reale che verrà però replicato il 4 agosto non dovete preoccuparvi se non l'avete visto appunto e non dovete neanche preoccuparvi se non vi siete ricordati di partecipare perché verrà comunque data a tutti la copertura quella reattiva alla musica tra l'altro questo video registrato prima dell'uscita dello shop di oggi dovrebbero essere disponibili nel negozio tutte queste skin davvero molto carine alcune veramente colorate che hanno la particolarità di essere associate all'evento all'ultima fase del concerto di diplo quella che sto facendovi vedere invece in questo momento è proprio la after party quindi la copertura tutta strana tutto sinuosa che si come si dice che è reattiva alla musica quindi ragazzi tanta tanta roba loggate su fortnite e la riceverete senza problemi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri c'è stato l'abbassamento del livello dell'acqua il penultimo stadio dell'abbassamento fra due giorni ne arriverà un altro intanto vi faccio vedere la minimappa l'avrete già vista sicuramente ma due note super super veloci ragazzi sabbie sudate sono tornate completamente al loro stato originale ci sono tante strade adesso accessibili vicino a putrido pantano e anche il campo merluzzo è quasi anzi è totalmente fuoriuscito la cosa davvero interessante ragazzi è che fra due giorni come vi anticipavo il primo agosto avremo il vl1 quindi water level one un ulteriore abbassamento del livello dell'acqua che porterà la luce nuovamente su tutta pantano quindi sarà totalmente calpestabile e ci saranno anche delle nuove sezioni che ancora sono ricoperte dall'acqua quindi ragazzi veramente super veloci in questa season nel far abbassare il livello dell'acqua il che ci porta anche a pensare che potrebbero non esserci ritardi quindi il 27 agosto dovrebbe essere l'ultimo giorno della season 3 di questo capitolo 2 e infatti ragazzi come vedete c'è anche una buona probabilità che arrivi settimana prossima alla patch 13.40 per un motivo molto semplice nella patch 13.30 non erano presenti le challenge della settimana numero 8 le sfide quindi di solito anzi da sempre le sfide escono con la patch sono molto propenso a pensare che i leakers abbiano ragione dovrebbe arrivare tra mercoledì oppure giovedì e tra l'altro ragazzi ecco invece un'immagine un'anteprima dopo ve la faccio vedere più in grande di come sarà la prossima minimappa quindi come troveremo alle 9 del mattino del primo agosto la mappa e notiamo subito tre grandi cambiamenti il primo new atlantis poi available quindi arriverà finalmente la la nuova location atlantide in alto a sinistra abbiamo la possibilità di muoverci intorno alla fortiglia non per forza nuotando all'esterno del muro come vedete c'è un po di di terreno e poi abbiamo slurp water slarpy swamp not longer exist quindi non ci sarà più però la lo slurp il succo slurp in tutta putrido pantano questa ragazzi è proprio le all'immagine della minimappa allo stadio finale quella che ci accompagnerà fino alla fine la mappa è veramente bellissima torna al suo stadio originale c'è tutta la nuova location che state vedendo qua è davvero interessante anche il fatto che ci sia del terreno calpestabile intorno alla fortiglia questo lo rende molto più giocabile secondo me in tante altre situazioni un piccolo zoom invece ve lo voglio far vedere nuovamente questo è come apparirà il nuovo atlantide quindi dedicato nuovamente ad aquaman e arrivano anche delle immagini davvero interessantissime che sono talmente fatte bene che non sembrano essere dei dei concept la prima ragazzi è questa che sta un pochettino facendo il giro dei forum effettivamente ci sono tutti gli elementi che abbiamo già visto nei file di gioco quindi nei codici sorgenti una piramide delle rocce una sfinge dei capitelli quello lì in basso a destra è un capitello una torretta chiamatela un po come vi pare e quest'altra immagine è veramente interessantissima perché è ancora più in alta definizione tanta sabbia e ci sta perché la base di tutta questa location è sabbiosa ed è veramente super interessante potrebbe essere semplicemente un'immagine del trailer del trailer perché io mi aspetto che arrivi un piccolo trailer nuovamente dedicato ad aquaman che annuncia appunto anche l'arrivo della nuova location e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché nella patch 13.40 sappiamo che saranno fixati un bel po di bug molti bug che stanno dando fastidio ne leggiamo semplicemente alcuni ad esempio slow glider speed after red ploying quindi succede purtroppo spesso anche a noi da pc può capitare che se mettete giù una jump ci saltate sopra e aprite il deltaplano c'è questo bug che praticamente non vi fa andare avanti quindi la velocità è praticamente azzerata ed è scomodissimo da utilizzare purtroppo il bug dura per tutta la partita ma abbiamo anche landed freezy farm oppure lo yacht e finish in top 25 non funzionava quindi se alcuni hanno ancora da fare queste sfide non preoccupatevi con la 13.40 verrà fixata problemi ancora per quanto riguarda la barra dei punti esperienza che magari vi fa vedere l'avanzamento di un livello vi dà le ricompense ma poi nel prossimo game vi riporta al livello precedente è semplicemente un bug quindi poi una volta raggiunti i punti esperienza potrete tranquillamente fare la progress bar e ci sono anche dei fix sulla modalità creativa multi selected items non ruotano quando li volete ruotare con il telefono e save the world le basi quindi quelle che alcuni eroi possono mettere giù a volte non appaiono nella ruota di selezione quindi ragazzi anche qua tanti fix davvero importanti e velocemente parliamo dell'ultimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che il 31 luglio oggi la galaxy scout dovrebbe apparire nello shop per chi ancora non l'avesse vinta nella galaxy cup che si è tenuta il 25 e il 26 luglio ecco qua che vi mostro nuovamente come si presenta è un set completo formato da skin backpack picconi deltaplano e anche copertura quindi sicuramente per tutti i possessori invece della galaxy classica potranno terminare il set o comunque affiancargli anche una controparte femminile insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao